Buonasera amici della Capri, buonasera a tutti, che bello vedo anche perché facce che poi a un certo punto si allontanano poi ritornano e quindi io sono contentissima. Buonasera a tutti, stasera a fianco a me c'è Nicola Caroppo, tra l'altro non è alla sua prima dal Capri, quindi qualche tempo fa è stato nostro ospite, è già esposto insieme ad Alessandra e io ho avuto il piacere, siccome ci conosciamo da un bel po' di tempo, l'ho sempre seguito e finalmente oggi ci siamo conosciuti anche di persona, quindi dopo forse 10 anni ce l'abbiamo fatta. Nicola Caroppo ci presenta la sua personale Fragmenta, Nicola è un artista autodidatta, ha fatto un altro tipo di percorso di studi, si è laureato con l'Ore a Conservazione dei Speri Culturali a Napoli, a Sorosola Benincasa, per poi specializzarsi in studi storici, storico alla Sapienza a Roma e quindi nel frattempo però ha intrapreso il suo percorso veramente artistico, pittorico, ovviamente sperimentando tanto, è partito dal figurativo, espressionista fino ad arrivare poi all'informale e quindi mi farebbe piacere, tra l'altro sarà brevissimo mi dirà qualcosa Nicola ma poi io voglio che restiate qui perché ci sarà un'estemporanea molto interessante, non so se avete visto il pannello di cello che abbiamo allestito all'esterno lui ci alliederà durante la serata con una sua estemporanea. Nicola, come va? Allora, innanzitutto grazie a Bar Capri, grazie a Nomisa Mandarino per avermi ospitato, per questa personale e non so cosa dire per presentare le mie opere. Ma c'è un scotch dei capenti? Sì. Può essere un attacco? Sì, diciamo tra cello, fan e scotch, diciamo adesso più rouge tra i trasparenzi e presento queste opere che sono frammenti, frammenti recuperati dal tempo insomma che a volte inserisco in contesti diversi dopo averli rivisti anche dopo qualche tempo. Niente, è una ricerca informale che ho iniziato qualche anno fa, insomma dopo appunto un periodo figurativo e niente, spero vi piaccia e vi divertiate per questa serata. Grazie veramente a Nicola Carò. Ragazzi, buon'arte e buona musica, io vi lascio nelle mani del Capri Jazz Bar Trio, nelle mani a fondo di Carmine Cadaldo al pianoforte, Stefano Tata Fiori alla batteria, Francesco Maiorino al contrabbas e poi ci sarà la GEM session. Grazie mille, grazie a tutti, grazie Nicola e noi ci vediamo fuori, grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.